e ritorniamo in diretta dal May di Faenza al meeting dell'etiquette indipendente ho scoperto oggi l'acronimo, lo sapevi te? il grande e ritorniamo qui con una band oggi capitanata da due elementi ma siete in 27 credo vi ho persi due autobus due autobus colmi senza biglietto chiaramente, che gusto c'è? e qui dal May dicevamo, qui con Rato Stavio ci andiamo un pochino a conoscere, far conoscere e scoprire nel nostro piccolo chi c'è e chi non c'è e quant'altro io ho qui con me i batangoma, correggetemi un paio, raccontami questi batangoma, uno come siete arrivati al May? se avete sbagliato l'uscita o se vi hanno invitato, spiegami un po' allora al May siamo stati invitati, per fortuna ne avevamo una gran voglia perché siamo tutti musicisti che suoniamo da tanto tempo come turnisti adesso siamo insieme in un progetto e portarlo avanti è un po' difficile quindi ci servono tutti i canali possibili per farci ascoltare e batangoma è una band afro reggae, facciamo una mescla di onde giamaicane, cubane e napoletane siamo sette elementi, il nome batangoma deriva dalla parola batà, una parola yoruba che vuol dire famiglia ma in realtà famiglia di tamburi e ngoma che vuol dire tamburo, quindi una famiglia di tamburo, tamburo è un tamburo al quadro, una madre osca praticamente, ho capito, è bella questa cosa ok, e chi ha creato cosa, chi è il fondatore della band se c'è uno di voi due diciamo sì che la maggior parte delle idee sono state prese da idee che avevo pensato e quindi sì, io sono un po' il motore di tutto ma allo stesso tempo non esisterebbe un batangoma senza tutti e sette gli elementi questo è imprescindibile facciamo canzoni ma facciamo anche un po' di contaminazioni blues and jazzy e volevo salutare comunque gli elementi che sono qui dietro c'è Antonello Petrella al sassofono, Marco Garofono alla chitarra che è qui Fabiana Manfredi alla voce, Rosario D'Alessio al basso Luigi Casa alla batteria aspetta, aspetta, suggerimento Giulio De Asmundis alle tastiere e poi ci sei tu e basta, e poi ci sono io non ti sei contato, ok perfetto bella questa cosa no, e oggi vi siete esibiti, mi dicevate prima, già due volte, credo sì, con nostra sorpresa ci hanno fatto esibire prima alle 11 sì e poi alle 3 sì e hanno promesso, non è vero, ma hanno promesso che suoneremo alle 8 però la prossima volta sì, sono promesso proprio a Maritano sul palco grande dopo i rem dopo i rem giustamente, se non vai sul palco grande che ci viene a fare? no, adesso vediamo un pochino se effettivamente c'è la possibilità perché comunque se siete bravi a suonare come sei bravo a intrattenere diciamo che secondo me ci divertiremo grazie e te non mi racconti niente invece ecco, da quando è che ti si è aggregata questa combriccola? questa combriccola io l'ho iniziato a frequentare dal 2012, anno in cui mi sono iscritto al conservatorio ho stretto amicizia con Paolo Batà, che è lui e da lì è nato questo piccolo germe di fare una band regge nonostante noi studiassimo, avessimo studiato jazz e siamo anche diplomati e da lì piano piano siamo cresciuti insieme in questa cosa in cui lui già era molto più formato e io appresso a lui mi sono costruito e migliorato e questo è l'indirizzo che abbiamo l'unione fa la forza sì, assolutamente ragazzi noi come contatti? se uno volesse troverlo, giustamente almeno non è che possiamo avere tutto il mondo abbiamo comunque tante opportunità come a me di conoscervi eccetera certo, poi Trieste è una bellissima città, noi spaccheremo, Treviso, Trieste tu dici vabbè Nord tutto ciò che sopra il Po è uguale Trani, Trani no scherza sì, è una radio che è una web radio, quindi siamo Treviso come sede fisica, ma di fatto io abito a Moda quindi anche le varie trasmissioni sono da tutti i tali lo dico per magari ascoltatori, per chi non ci conoscesse, che volesse andare a dare un occhio al palinsesto è uno dei programmi interessanti e invece i vostri contatti? allora i nostri contatti noi abbiamo una pagina Facebook Batangoma abbiamo un sito www.batangoma.it che apriremo la settimana prossima riapriremo perché l'abbiamo ristrutturato no, 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 no siamo sempre legali, siamo ancora nella legalità per fortuna e anche la pagina YouTube Batangoma e tra l'altro il 25 ottobre lanceremo il primo singolo del nostro nuovo album che si chiama Don't Stress e l'uscita dell'album sarà poi penso a dicembre dopo due o tre singoli insomma diciamo che siete belli attivi e dopo il May dove andrete? tornate a casa? avete qualche altra tappa? sì abbiamo per il momento due date a Napoli città sì poi vediamo e poi vediamo insomma anche perché comunque il mese con me dà qualche opportunità sicuramente sicuramente la bella vitrina dopo gli anni che noi ci veniamo notiamo questo comunque c'è un bello scambio sì sicuramente ragazzi io vi ringrazio adesso vedo che lui è testa di caso si chiama così proprio testa di caso salve alla regia Gianluca di là saluto anche Irina che oggi ringraziamo accompagnato nonostante l'influenza tutto bellissimo noi facciamo una bella foto quindi testa di caso noi ti salutiamo e salutiamo gli ascoltatori anche i spettatori perché stiamo in onda spero su Facebook non ho capito se ce l'hai fatta guarda che sguardo ci siamo ci siamo ma lui è un attore in realtà lui sì un attore sì non dico di che genere perché sennò potremmo qualcosa alla Andy Garcia alla Andy Garcia alla esatto tutto molto bello detto questo bene questo è lo show io ragazzi vi ringrazio vi saluto adesso grazie a voi stacchiamo e facciamo anche una foto di Rito grazie ancora grazie al May che rende possibile anche questo ciao ciao grazie a tutti